Questa è la versione più cattiva del Basaglia, grazie. Questo è Ugo, tre colpi e un fucile a due tempi. Tre, quattro. Ah, l'ennesima bolletta sballata. Ora ci penso io a farla finire. Pensò Ugo afflitto dalla sfiga. Carico, 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 tre colpi in mano, vecchio fucile a due tempi. Carico, 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 tre colpi in mano, vecchio fucile a due tempi. Il primo colpo era una lama ripugnare per recidere il sistema alla giungolare. Il secondo colpo era un trentretanino che rubrava terzo quando era bambino e che aveva ricevuto poi il dono dallo zio Danino, imprenditore arricchito col favore del partito. Il suo colpo era una pillola per il sonno che Rubo ormai prendeva da troppo e troppo tempo. Tanto da dimenticarsi sempre più spesso, il canino scendica ossa con Rubo in mezzo a me. Carico, 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 tre colpi, mano, vecchio, fiscina, dov'è? Carico, carico, tre colpi, mano, vecchio, fiscina, dov'è? Carico, 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 e troppo, fiscina, dov'è? aveva adesso chi fa dei fuori e il primo con la fascia si saldi un vicente si piccò la lama proprio in mezzo alla fronte mentre il canino finì ha gritto nell'occhio e lo sportellista perdista che non aveva voglia di fare un caso per il suo colpo finì un boccadugo che sanguina da un vecchio si portocca da terra fino a un tempo insoddisfatto per quel che aveva fatto fino a un tempo insoddisfatto carico, carico, carico tre colpi in mano vecchio, vicino adotente carico, carico, carico tre colpi in mano vecchio, vicino adotente carico, carico, carico tre colpi in mano vecchio, vicino adotente e poi e poi